Abbiamo ricevuto un attacco frontale scomposto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ieri ha convocato una conferenza stampa per far finta di raccontare i nuovi provvedimenti del Governo e poi di fatto l'ha utilizzata per attaccare le opposizioni, ovviamente senza possibilità di replica e senza contraddittorio. Ha raccontato falsità sul nostro conto, in diretta, come per esempio quando ha sostenuto che nel 2012 quando è stato approvato il Fondo Salva Stati io ero Ministro. Nel 2012 tutti sanno che al Governo c'era Mario Monti. Però voglio fare chiarezza sul tema del Fondo Salva Stati, sul tema del MES. Questo è il report dell'Eurogruppo. In questo documento, sul quale c'è l'ok del Ministro dell'Economia Roberto Qualtieri, c'è scritto che se questo testo verrà approvato dal Consiglio europeo, il MES sarà attivato entro due settimane. Non significa ovviamente che l'Italia sta chiedendo aiuti al MES ora. Significa però che, soprattutto in assenza di altri strumenti come gli Eurobond che stiamo chiedendo, al primo problema con gli spread l'unica possibilità che rimarrà all'Italia sarà quella di accedere al Fondo Salva Stati. Con condizionalità. Su questo chiediamo chiarezza. Perché il Presidente Conte al Consiglio europeo può dire no a questo documento, su quale c'è l'ok del suo Ministro dell'Economia. Può risolvere il problema e noi questo gli chiediamo di fare e questo gli chiederemo di fare anche con un voto parlamentare, se è coerente con quello che ha detto ieri e quello che ci aspettiamo. Dopodiché dispiace che in un momento come questo la priorità del Presidente del Consiglio e di bei pezzi della sua maggioranza sia occuparsi di noi. Se il governo e i partiti che lo compongono dedicassero a combattere il coronavirus, la stessa foga che dedicano a combattere noi, avremmo risolto parecchi problemi. Perché mentre Conte gioca al teatrino della politica la verità è che gli italiani non hanno visto neanche una risposta, non hanno visto un Euro ed è questo il problema. Conte cerca la rissa con le opposizioni per distogliere le attenzioni dalle difficoltà del suo governo, dalle difficoltà della sua maggioranza, ma è un gioco irresponsabile al quale noi non intendiamo piegarci. Noi faremo e continueremo a fare tutto quello che possiamo per aiutare la nostra nazione, per fare sì che arrivino finalmente i soldi alle famiglie e alle imprese, che venga pagata la cassa integrazione, che vengano dati i contributi agli autonomi, che il decreto liquidità non diventi un'altra pacchia per le banche sulla pelle dell'economia reale, eccetera, eccetera. Continueremo a parlare di problemi concreti e ci aspettiamo che rinsavisca anche la maggioranza e torni anche lei a parlare di cose che interessano davvero gli italiani. Dopodiché gli italiani giudicheranno. Il giudizio degli italiani arriverà e la mia coscienza mi dice che non siamo noi a doverlo temere.